I fan di Meghan Markle e Prince Harry hanno cercato di cancellare una critica alla coppia, ma sembra che i loro sforzi siano falliti.Il duca e la duchessa del Sussex si sono allontanati dai doveri reali all'inizio dello scorso anno. Dopo la loro partenza dallo studio, Harry, 37 anni, e Meghan, 40, si sono trasferiti negli Stati Uniti dove stanno cercando di vivere una vita finanziariamente indipendente. Ora vivono a Montecito, con i loro due figli Arci, due, e Lilibet di sei mesi. Dopo il loro allontanamento dai doveri, la coppia ha preso parte a un'esplosiva intervista rivelatrice con la conduttrice di chat show Americana Oprah, dove hanno fatto una serie di affermazioni sismiche sul loro tempo come reali. Durante la chiacchierata di marzo, Meghan ha detto che ci sono state conversazioni all'interno della famiglia reale su quanto potesse essere scura la pelle del loro bambino. Punto ha detto, in quei mesi in cui ero incinta, c'erano, preoccupazioni e conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle quando è nato. Ora vivono a Montecito, con i loro due figli Arci, due, e Lilibet di sei mesi. Dopo il loro allontanamento dai doveri, la coppia ha preso parte a un'esplosiva intervista rivelatrice con la conduttrice di chat show Americana Oprah, dove hanno fatto una serie di affermazioni sismiche sul loro tempo come reali. Durante la chiacchierata di marzo, Meghan ha detto che ci sono state conversazioni all'interno della famiglia reale su quanto potesse essere scura la pelle del loro bambino. Ha detto, in quei mesi in cui ero incinta, c'erano, preoccupazioni e conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle quando è nato.Il diarista e commentatore reale Richard Eden ha commentato le accuse su Twitter. Il 28 dicembre, in un tweet ai suoi 17,7k follower, ha scritto, sono sinceramente preoccupato che le critiche del principe Harry e di Cancelletto Meghan ai reali razzisti senza nome abbiano aumentato il pericolo di attacchi alla Cancelletto famiglia reale.